Molto più che un pomeriggio all'insegna della prevenzione. In piazza ad Alto Passo si è verificata una vera e propria corsa al sierologico. Nel giro di poche ore i 200 test messi a disposizione dall'ASL erano quasi tutti esauriti. È decisamente andata a buon fine la campagna di screening anti-covid organizzata dall'amministrazione comunale che ha avuto luogo in via Cavour in occasione del passaggio della Mille Miglia. Numerosi i volontari presenti al gazebo per effettuare i test gratuiti a chiunque lo richiedesse. I risultati sono stati comunicati direttamente sul posto e in caso di positività la persona interessata è stata invitata a richiedere l'effettuazione del tampone all'azienda sanitaria. Abbiamo voluto organizzare questa giornata di prevenzione con una campagna di sensibilizzazione importante rispetto alla verifica della positività al coronavirus tramite i test sierologici, quelli sul dito. Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Alto Pascio e la ASL Toscana Nord abbiamo reperito 200 test sierologici e la partecipazione è alta e di questo sono contenta perché significa che le persone vogliono portare avanti quello che è lo spirito complessivo, ovvero una mappatura il più possibile larga della popolazione per prevenire il possibile contagio tra persone che magari sono anche all'interno dello stesso nucleo familiare e quindi è bello vedere che su 200 test sierologici che abbiamo a disposizione dopo la prima mezz'ora già più della metà sono già stati prenotati.